Ciao ragazzi! Ciao! Oggi io e Alissa proviamo un'app e la commentiamo così vediamo un po' se è qualcosa di carino che vi possiamo consigliare oppure no si chiama Sousage Swing Club e cosa dovremmo fare Alissa? Secondo te? Ah, c'è una salsiccia che cade! Ah! Dobbiamo cucinarla! Dobbiamo dargli delle spinte per farla finire in pentola Ma come facciamo? Aspetta Prova tu No, è morta È morta Ah, eccole un'altra! Vedi, col dito dobbiamo dargli Dobbiamo dargli la... Eccola, eccola! Brava, brava! Fagli prendere col cuore Basta, lasciala, lasciala! No, prefero quasi la pentola Brava! Ah, ecco! Ah, vedi? Gli dai la giusta inclinazione per farla saltare nella pentola Sì, allora, la tecnica è muovere storto il dito Beh, ragazzi, fateci comunque sapere Se vi piace questa rubrica sulle app Che magari la possiamo continuare Per farvi conoscere qualche app che scopriamo Allora, adesso sto facendo io E infatti si vede perché sono morta spiaccicata Vai Alissa, prova tu Vai, vai Ok, brava Adesso Dai Ma tu sei bravissima! Ma non è niente però, eh? Ok, no, questa volta ce la faccio Alissa, eh Allora, io non ho ancora capito Gira la pentola Ma no! Ah, la pentola, ma non si arriva, guarda Sì, però Vedi, si spiasca Allora, aspetta, lo facciamo cadere un po' Eccolo! Ora! Oh! Sì! È andata per un bitardo Cioè, perché bisogna farla arrivare in terra per essere a massimo Ah, io invece l'avevo fatta un po' rompere Sì, perché se la fai spiaccicare contro il muro Poi un po' si toglie Ok, da dove arriva? Ok, e tu l'hai fatta spiaccicare Ecco Ah, è vero che si rimpicciolisce Adesso si è proprio completamente distrutta Sì Adesso provo io Sì, ok, abbiamo capito Dai che ha perso Ma siamo da capo? Non so No Ok, allora vai di là Vai giù, vai giù, vai giù Perché giù? È perché c'è il cuore Ma è un serve il cuore Sì che serve Sono morta Ma mi sarò rimpicciolita Non so ancora in terra, guarda Guarda, ho preso anche il cuore Vai, vai Dai, salsicciotto Guarda che tuffo perfetto Dai, però è carino questo gioco Finora ve lo consigliamo Finora ve lo consigliamo Poi se mettete la modalità aereo Neanche vi escono tutte le pubblicità Ah, lì non trovo la salsiccia Non c'è la salsiccia E non c'è Guarda È vero, non c'è la salsiccia Non è uscita Ma cosa? Ah, forse è perché ho messo la modalità aereo Sei accorto del trucchetto? No, perché ha preso l'aereo Ha perso l'aereo Nuovo livello Qui c'è una palla Prendi il cuore Prendiamo il cuore No, no, muro Muro, perché? Vai, palla Dai, salta, salta, salta Hai messo salsiccia Dai, fidi la metà Stai facendo un bel Un bel spazio Ok Dai, questo è C'è la shop È vero Cosa potremmo prendere? Possiamo cambiare salsiccia Salsiccia No, vabbè Vabbè, cambia solo la faccia Alla fine sono uguali Ma questo cambia anche il colore Non abbiamo tutti quei soldi, Alissa Con 60 voglio comprarmi questa Ok, allora Il nostro obiettivo è avere 60 monete Per prenderci quella salsiccia Che vuole, Alissa Ok Ok Non diciamo male Non diciamo malissimo La palla Però Un po' mi fa pena questa salsiccia Cioè, si impegna così tanto Per arrivare nella pentola E essere cucinata Ma dite no, non so Prendi il cuore Prendilo, prendilo Brava No No Vai nella pentola Non vai nella pentola Ma perché stai mirando male? Perché non mi fa E mi fa E mi fa un misalpiccione Vabbè Oh, aiuto Aiuto Vai Non ti arrabbiare Fallo tu Se sei così brava Adesso L'ho dato da Alissa Vediamo lei come se la cava No 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 Che fai a passare in questo? È impossibile È impossibile No Io voglio il cuore Che fai a passare in quel piccolissimo passaggio Eccola dai Passaci così Bravissima No Dai 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 Vai Ci sei spettacolo Sì Suspense Suspense Ci sei? Vai 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 Wow Brava Ma tutta è buona È riuscita Ma sei troppo brava Vedete che sei un'esperta Mangiatrice di salsicce Wurstel Non lo so Ok Allora adesso Adesso ti farò vedere Quanto ho imparato Vai Allora salto Ok Bene Dov'è? Non lo vedo Ah lo vedevo Sopra Ok Aiuto No Ma Eccolo vai vai No Ma aspetta Mi sono anche incastrata Dai Sì ma non lei Lascia così 5 5 Me ne date 5 Anche di Andiamo Ce l'abbiamo fatta Bene Ok 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 Non è lui Attenta Aspetta posso vedere chi c'è poi A 100 c'è questo big pop Vabbè No Noi interessa Crowd pleaser Lo compriamo? Sì Bellissimo Perché è giallo Ma secondo me Si chiama big Perché è Forse è più grande Chi lo sa Beh comunque adesso abbiamo preso questo Abbiamo finito tutti i soldi Alissa spendaciona E' bello Dai proviamo Ok ragazzi Proviamo Quest'ultimo livello Giusto per vedere Questo Giallo Come se la cava Anzi dai ne proviamo due Perché uno lo faccio fare anche ad Alissa Perché io non sono capace Oh Ecco qua Vai Alissa Ultimo livello Poi direi che Abbiamo fatto vedere abbastanza Quest'app E perciò per oggi Può anche bastare Altrimenti Altrimenti Ti raccoleriamo tutta Perché è quello Comunque volevo dire che Più fai allargare il coso E più è mirato Ma secondo me dà anche una spenza più forte Ok Comunque ha cambiato il colore del cuore E' diventato un giallo Oh e adesso Vai No Guarda che prima Vabbè dai vai No aspetta Ti puoi rifare Aspetta No Non farlo Non farlo Perché ho fatto Vabbè Vai Ultimo livello Fatto da Alissa Dai questo è semplice Così poi possiamo salutare E no il cuore Vabbè Il bagnetto e basta Comunque ragazzi Questo gioco si chiama Sousage Swing Club Sì E' un gioco passatempo Così Molto semplice Un po' stupidino Però dai E' carino Lo consigliamo? Sì perché parla di cibo Fa venire fame E va bene ragazzi Fateci anche sapere Se vi piace questa rubrica Sulle app In cui io e Alissa O a volte solo io O a volte solo Alissa Non lo so Proviamo delle app Simpatiche E vabbè Insomma scrivetecelo nei commenti Per oggi vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao